Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. No, scusiamo, è un po' di... Com'è? Non posso andare a dire neanche io, quindi... Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, cari concitativi... Mi permetto nuovamente, coloro che mantengono in funzione le linee... Non si, non credo, non lo riesco a leggere, prima di pensare... Cominciamo, mi dispiace... Ma è successo, è... Stiamo a dire per piacere però, scegli una posizione, poi... Perché se ti muoio, seguo... E mi distrago... Grazie. Mi permetto nuovamente... Grazie. Grazie. Grazie.